Direttamente dal Quirinale lo straordinario busto attribuito ad Annibale, il più grande generale dell'antichità. Per la prima volta in Puglia, nei sotterranei del castello di Barletta, si racconta il viaggio del celebre condottiero cartaginese, in una mostra singolare e affascinante, svelando negli aspetti umani e militari. In occasione dell'anniversario della battaglia di Canne, avvenuta il 2 agosto del 216 a.C., ecco il mito, le cronache e la leggenda di Annibale. Sicuramente un'amministrazione comunale attenta al rilancio della città, c'è un turismo di qualità che dobbiamo intercettare, per cui accanto alle evidenze architettoniche, storico-artistiche, ambientali, naturalistiche, enogastronomiche, bisogna investire in cultura. Tra gli enti prestatori delle opere c'è il Museo del Bardo di Tunisi, che dimostra chiaramente come si vogliono riallacciare dei rapporti culturali di notevole spessore. Barletta, come tutta la Puglia e in generale il Mezzogiorno d'Italia, può e deve giocare un ruolo di ponte nel bacino del Mediterraneo. Parliamo di pace, anche se qualcuno potrebbe dire che è stato Annibale un condottiero, quindi un uomo comunque di guerra, un uomo che ha fatto un giuramento e che odiava Roma. Sì, questo ci consente di riflettere sugli errori del passato e sulla valenza delle guerre, su cui ci ha recentemente richiamato l'attenzione anche Papa Francesco. Le guerre si fanno per interesse, le guerre puniche furono fatte per interesse, per il controllo del Mediterraneo. Poi alla fine migliaia e migliaia di morti e noi siamo qui a ripensare la storia che è maestra di vita. Ma vogliamo, come dire, apprendere questi insegnamenti e guardare con occhi diversi alle possibilità di sviluppo del dialogo costruttivo nel Mediterraneo, tra culture diverse, religioni diverse, attività economiche che devono muoversi in maniera sinergica. Con molta simbologia. Questo castello appartiene all'evoluzione della storia di questo territorio, un territorio in cui ricade Canne, un territorio in cui ricade Canosa, città romane storiche, appunto che Canne poi si è combattuto una delle battaglie più cruente dell'antichità. E poi qui, in questo castello, c'è Federico II, un altro busto. Paradossalmente la mostra nasce da un'idea molto semplice, fatta dai ragazzi che erano in visita al Curinale, si erano trovati di fronte al busto di Annibale e avevano pensato, ma noi abbiamo il busto di Federico II. L'idea più semplice era stata appunto quella, che aveva una sua suggestione, che aveva suggestionato al suo tempo il presidente napolitano, una suggestione che poi è stata anche di Mattarella. La mostra, in programma sino al prossimo 22 gennaio, permette l'accesso dei disabili, previa prenotazione e assistenza operativa da concordare con il personale comunale. Il 2 agosto, per suggellare lo storico anniversario alle ore 20 a Canne, il concerto Sotto le Stelle con Katia Ricciarelli e i tenori Francesco Panni, Francesco Malapena e Francesco Zingarello, con l'orchestra sinfonica della città metropolitana di Bari. Da Barretta per News24.city, Floriana Tolve.